Iniziamo dal grande malato, il quotidiano cartaceo. È un prodotto ormai morto, destinato a scomparire o può ancora riprendersi? Ma secondo alcuni doveva morire già fra qualche anno, stando a articoli, libri scritti qualche tempo fa? No, è destinato a cambiare ma non a morire, ovviamente è un prodotto che risente non solo, come è stato detto, introducendo l'arrivo della rete, di internet e delle nuove forme di giornalismo, risente della crisi economica, risente di un ritorno al neo-analfabetismo di cui ovviamente l'Italia soffre la difficoltà dei giovani a leggere e a utilizzare questi strumenti, ma tutte queste cause messe insieme determineranno la lascita di nuove forme di giornalismo scritto che non automaticamente saranno quelle del passato, ma è altrettanto vero che non significherà che il giornale muore. Il grande concorrente del giornalismo cartaceo, quello online, fino ad ora è stato gratuito, ma questo modello di business, basato sulla pubblicità, sta incominciando a mostrare limiti importanti. Si arriverà ad un giornalismo a pagamento anche sul web? Ma senza dubbio, è stata una delle grandi speranze dell'umanità, quelle di avere finalmente la rete universale, internet gratuito, pensiamo appunto alla prima grande enciclopedia Wikipedia, eccetera eccetera. Tutto questo ha avuto una sua fase, oggi si discute e si incomincia anche tra gli esperti a discutere serenamente del fatto che il buon giornalismo sia su carta che su rete, che su televisione, su qualsiasi tipo di supporto, se praticato con le tecniche del buon giornalismo, quindi dell'inchiesta, della ricerca, dei dati culturali eccetera eccetera, che se sono articoli che arricchiscono, non solo offrono informazioni fugaci, ma arricchiscono il lettore o il telespettatore, ben venga anche il giornalismo a pagamento. I giornali ormai competono con blog, social e serie tv per catturare l'attenzione e il tempo delle persone, che per definizione è limitato. Sempre di più anche le grandi testate, soprattutto sul web, stanno virando verso un modello di intrattenimento. C'è il rischio che questo di fatto porti alla fine del giornalismo così come lo concettiamo oggi? Ma l'info e l'intrattenimento e l'informazione si sono fuse in realtà grazie alla televisione, in questo la rete ha poche colpe, già la televisione ha fatto abbondantemente uso di questo sistema, in modo particolare quando è nata in Italia la competizione fra il monopolio pubblico e ovviamente le aziende private e la presenza di molti editori in televisione. È chiaro che c'è una tendenza non solo ovviamente in particolare, ma in generale a spettacolarizzare tutto. Una malattia di cui soffre la politica, di cui soffre la scienza, di cui soffre l'università, di cui ovviamente in un qualche modo poi non sono solo responsabili, ma coautori della spettacolarizzazione in media. È un male che è esistito, che esiste e che va combattuto riassegnando al giornalismo il ruolo a quelle compete, cioè quello di essere mediatore sociale tra l'informazione, la fonte e il pubblico. Facendo questo in un qualche modo si può supplire a questa necessità di business e della spettacolarizzazione. Parlando di business, sempre più aziende e organizzazioni come leva di marketing stanno aprendo blog e siti web per fare informazione e attirare clienti sui propri canali di comunicazione. Fenomeno noto come brand journalism. Ci troviamo davvero di fronte ad una nuova forma di giornalismo? Ma anche su questa storia delle forme di giornalismo se ne dette un po' di tutti i colori, ogni mese ne nasce uno, insomma, seguendo questa dal data giorno, è brandeggiosa. Cioè in realtà esiste una professione, quella del giornalista, che deve essere sempre più declinata al plurale. I giornalismi, perché diversi sono i media, diverse sono le competenze che devono esistere per fare giornalismo nei tanti diversi medi, ma anche le funzioni. Chi fa giornalismo nelle istituzioni o nella radio o in televisione o nella rete, come voi ditiscali, ha funzioni che sono propriamente in parte simili l'una all'altra in parte diverse. Quindi sì, per un periodo avremo anche questa nuova forma di giornalismo, ma in realtà poi il giornalismo rimane quello. Il giornalista è colui che fa il giornalista, il giornalista è colui che va a scovare i fatti, non si limita a ricevere le note degli uffici stampa, fa inchieste, fa reportage, scrive corto sulla rete, come voi, scrive lungo per la carta stampata o per la rete, quando ovviamente c'è. Il giornalista è colui che in un qualche modo, Eugenio Scalfari molto tempo fa usò una definizione che mi è sempre piaciuta molto, quando gli chiesero, ma insomma che cos'è il giornalista? È una sorta di scrittore? Lui disse, il giornalista è una sottospecie funzionale dello scrittore, sottospecie funzionale, vuol dire che il giornalista sì in qualunque tipo di supporto, da voi che state usando la televisione, a voi che usate la rete, a io che scrivo sulla carta o scrivevo sulla carta stampata, tutti noi abbiamo il compito di raccontare e per raccontare dobbiamo scrivere, corto o lungo, e per scrivere bisogna saper scrivere e per scrivere, questo va detto e diciamo serenamente, bisogna saper leggere, leggere e scrivere vanno a braccetto, questo è il vero grande problema che ha l'Italia e probabilmente il mondo in questo momento, impedire che quei modelli ai quali lei faceva riferimento nelle domande divengano modelli imperanti e questo chiama in causa le famiglie, la scuola, l'università, chiama in causa tutti quegli elementi che si occupano dell'educazione delle nuove generazioni. Da qualche anno si parla tantissimo di fake news, per i giornalisti sono una minaccia oppure un'opportunità. Nell'uno e l'altro, cioè le bufale sono sempre esistite, sono state, cioè probabilmente voglio dire il cavallo di Troia era una grande bufala, voglio dire Ulisse inventò il primo grande scherzo mediatico e romanzato della storia, no, sono l'una e l'altra cosa insieme, cioè si evitano le fake se facciamo il controllo delle fonti, se verifichiamo l'informazione che ci arriva, se la verifichiamo come si usava a fare da più parti, se tutto ciò che arriva nelle redazioni viene preso per buono diventano una minaccia. In conclusione, come sarà il giornalismo tra dieci o vent'anni? Migliore di quello del passato, sicuramente. Grazie Maurizio.